Danilo Greco regala la vittoria col suo bel gol, un tiro da 25 metri e Alcanichettia permette alla società del presidente Angelo Ricata di restare sulla scia della capolista Dattilo a meno 5 punti, ma anche di tenere a bada l'Agragas che insegue al terzo posto con un punto di distacco. A Campofranco è stata una partita difficile contro lo Sporting Vallone in cui milita l'ex Peppe Polito che ha avuto anche da ridire su un episodio che per lui era da rigore, è stato atterrato in aria in fase d'attacco ma l'arbitro aveva fermato l'azione per un fuorigioco. L'invenzione di Greco che avanzando da centrocampo all'altezza dei 25 metri ha fatto partire un tiro che si è zaccato all'incrocio dei pari e ha di fatto smorzato ogni tipo di polemica. Abbiamo dato un grosso segnale a quello che il nostro campionato ha dichiarato l'allenatore del Canica T, Pippo Romano, non era facile venire a vincere con lo Sporting Vallone. Noi abbiamo fatto una buona prestazione e il risultato è più che meritato. Romano analizza la gara e rimprovera ai suoi ragazzi di non aver avuto continuità nel gioco, nel secondo tempo soprattutto quando è stato concesso anche troppo alla squadra nissena. Alla fine l'importante è che la squadra abbia vinto, ha concluso il tecnico e la vittoria è più che meritata. Il secondo posto è in classifica, nel difficile campionato di eccellenza galvanizza l'ambiente, spinge ai tifosi a stringersi ancora di più attorno alla squadra. Dopo la partenza balbettante adesso il Canica T ha una fisionomia propria di gioco e un organico, considerati gli innesti di dicembre quasi al completo. Il secondo posto, dichiarato il vicepresidente Fosino Giacchetto, non deve essere un punto di arrivo ma di partenza. Sappiamo che il campionato è molto competitivo, che sarà ancora lungo, mancano ancora 13 giornate al termine e il girone di ritorno è ripreso ormai solo da due giornate che si sono concruse con altrettante vittorie per la nostra squadra. Quindi piedi per terra e continuiamo a lavorare con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinti. Domenica prossima il Canica T ospiterà allo stadio Saraceno di Ravanusa e il Cus Palermo. Sarà una sfida difficile, considerato che l'avversario ha bisogno di punti per salvarsi.